Di oggi la notizia del trasferimento degli ambulatori medici di Città 1 e 2, data da un baldanzoso quanto spericolato segretario Mussoni. Ma esistono su questo trasferimento diversi problemi. Oltre al fatto che questi locali sono privati e non pubblici, con una spesa non ancora definita, stanno venendo fuori le prime noie legali. Sono proprio i condomini che per mezzo del loro legale, avvocato Luca Biagioli, scrivono alle varie autorità per sapere se esiste o meno uno studio di sicurezza ed idoneità degli accessi ai locali. Infatti il pavimento è scivoloso e l'inverno ghiaccia e può diventare molto pericoloso. Neppure il collaudo o l'agibilità in tal senso, qualora esista, è stata fornita ai condomini. Sembra che tutto sia stato improvvisato. Musso di oltre 200 persone al giorno in un condominio e in considerazione del fatto che l'accesso possa avvenire da entrambi i portoni, così come richiesto dal direttore sanitario dottor Manzaroli, i condomini sono preoccupati per l'incremento dei costi di gestione e della relativa copertura sanitaria verso terzi. Per queste ragioni i condomini hanno espresso parere negativo per l'apertura degli ambulatori stessi. Quindi dopo il caso della vasca, della mancanza del dottore in città, dell'aspettativa del primario di cardiologia, oggi ne abbiamo un'altra. E forse non è sbagliato dire che il segretario Mussoni e la direzione dell'IS non ne stanno azzeccando una.